Un sogno che comincia a realizzarsi è il commento di Sabino Zinni, consigliere regionale dal 2015 al 2020 sull'inizio dei lavori di interramento ferroviario ad Andrea. Il volto della città potrebbe cambiare radicalmente, aggiunto ai nostri microfoni, il servizio di Luca Ciciriello. Ho ormai la venerante età di 58 anni e ricordo che da quando ero bambino si parlava di questo intervento dell'interramento della ferrovia o comunque del poter oltrepassare questa strozzatura della ferrovia che all'epoca non era qui ma era presso via Firenze come di una possibilità e quindi questo costituisce praticamente un sogno che si comincia a realizzare. Sono le parole di Sabino Zinni, consigliere regionale dal 2015 al 2020 nella maggioranza di Michele Emiliano. Come riferisce ai nostri microfoni, durante il suo mandato politico regionale ha lavorato da vigilante per due opere strategiche della città di Andrea, l'ospedale e appunto l'interramento ferroviario. Se questa opera e poi la prospettiva di un nuovo ospedale nella nostra città vanno in porto, il volto della nostra città potrebbe cambiare radicalmente le strozzature. Immaginatevi tutti quanti gli andriesi quanto tempo, quanto cattivo sangue, quante bestemmie hanno fatto per queste strozzature. Il fatto di non averle più sarebbe una meta, io continuo a usare il sarebbe perché fino a quando non lo vedo, non ci credo, sarebbe una meta molto importante per la nostra città. La ricucitura della nostra città sarebbe un passo avanti notevolissimo e io di questo voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questo, quindi gli ex sindaci Vincenzo Zaccaro e Giorgino, nelle cui amministrazioni questo progetto ha preso corpo con Zaccaro e con Giorgino, con qualche rallentamento e anche con qualche sfasatura rispetto all'originale progetto, che è anche più bello, è andato avanti, l'assessore regionale Giannini e prima ancora l'assessore regionale Loizio e i trasporti che hanno dato un contributo, specialmente Giannini, davvero forte a questa opera e gli assessori ai trasporti del Comune di Andia, l'attuale sindaco, insomma, c'è da rendere merito che, come diceva il film di Troisi, scusate il ritardo, ma ci siamo.